La vertenza del trasporto di società pubblica ATM e i sindacati entra nella fase più delicata in prefettura a Campopasso e in queste ore si discute per un tentativo di conciliazione. In arrivo a un primo contributo economico per il rifacimento dell'auditorium Unità d'Italia di Sernia i fondi giungono dal contratto istituzionale di sviluppo. I contagi da Covid-19 scendono lievemente ma il virus non verrà debellato nel breve periodo serve un giusto compromesso per salvaguardare salute ed economia italiana. Nel nostro focus settimanale si parlerà di scuola, un periodo drammatico tra didattica a distanza e chiusura a causa dei contagi dirigenti scolastici e docenti a confronto. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento del giorno del telegiornale di TLT. Pochi nuovi casi di contagio da coronavirus in queste ore, tuttavia non va bene la situazione delle vittime. Dopo la morte di un 93enne di toro è venuta a mancare anche una 72enne di termoli che era ricoverata all'interno del reparto di malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Si tratta dell'insegnante Alba Pranzitelli, persona conosciuta in città Termoli tra i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, anche quello del comitato Moli Sanità L113. Passiamo invece adesso alla pagina della politica. A commento delle decisioni assunte in sede di Consiglio regionale, interviene sui vari argomenti discussi in aula il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che critica fortemente il comportamento del Presidente della Regione Donato Tomma. Ma andiamo a vedere in questo servizio. Sono state numerose le decisioni assunte nel corso dell'ultima convocazione del Consiglio regionale che ha mostrato la debolezza del Presidente Donato Tomma che è andato ancora sotto nelle votazioni, spesso opponendosi a scelte di buonsenso. Sono queste alcune delle considerazioni che fanno i consiglieri regionali del gruppo del Movimento 5 Stelle che partono da un argomento preciso per dimostrare le loro tesi che riguardano una maggioranza sempre più allo sbanto che abdica spesso la programmazione delle opposizioni anche interne. Scrivono che oggi è stata la volta della sospensione degli accertamenti sulle caldaie, il voler praticamente evitare che i tecnici si recchino nelle case dei cittadini in piena pandemia rischiando nuovi contagi. Affermano che era un atto dovuto, già predisposto in altre regioni, un atto di cui se ne è accorta anche parte della maggioranza, tranne i fedelissimi del Presidente, che si è opposto alla decisione, andando così sotto nella votazione. Le critiche non si fermano a questa vicenda. C'è dell'altro che mostra l'immobilismo del Presidente e la questione dello scuolabus di Lupara dove sia lui che il suo assessore Quintino Pallante non sono intervenuti in tempo. Il tema arriva in aula, dove si conviene in modo unanime di dotare il comune dello scuolabus. Tutto però attraverso una mozione che è un impegno, quello di attivarsi per risolvere il problema, così come ci si dovrebbe attivare per risolvere la questione delle caldaie. I consiglieri del Movimento 5 Stelle però vogliono sottolineare che sono state davvero tante le volte che gli impegni chiesti dal Consiglio al Presidente della Giunta vengono ignorati dallo stesso. Intanto commentano alcune azioni positive come l'attivazione di borse di studio per studenti e ricercatori in materia scientifica, soprattutto nei settori della sanità pubblica e dell'industria ad alto valore tecnologico e come la destinazione dell'avanzo di bilancio 2019 alle strutture che erogano i servizi sociosanitari e sociali. E restiamo sempre in tema politico. Dotare l'upara di uno scuolabus dopo le proteste ai genitori e soa la questione è stata discussa a Palazzo d'Aimmo. È stata approvata all'unanimità la mozione della consigliera Ida Romagnolo. Andiamo a vedere. Dotare il comune di l'upara di uno scuolabus. La questione sollevata mesi fa da un gruppo di genitori del paese supportati dal sindacato operai auto-organizzati è giunta a Palazzo d'Aimmo. La consigliera regionale Ida Romagnolo ha infatti presentato in merito una mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea. Un atto di indirizzo importante considerato che i bambini di lupara frequentanti la scuola primaria e secondaria di Cassacalenda sono costretti giornalmente a utilizzare mezzi pubblici affollati anche da numerosi lavoratori di fabbriche ed ospedali per recarsi in istituto e seguire l'attività didattica in presenza. In un momento così difficile in cui la pandemia non è stata ancora debellata è oltremodo fondamentale tutelare i più piccoli ma è altrettanto indispensabile consentire agli stessi di viaggiare in condizioni ottimali. La consigliera Romagnolo ha pertanto impegnato i vertici istituzionali competenti in materia compreso il governatore Donato Toma ad attivarsi con la massima urgenza per dotare il comune di lupara dello scuolabus e nell'immediato di assicurare una corsa da parte del trasporto pubblico locale riservata esclusivamente agli stessi studenti. Riconoscere a tutti gli uomini gli stessi diritti fondamentali questo è il concetto base della civiltà che deve guidare l'operato di ogni azione sia individuale che collettiva con queste parole la garante regionale dei diritti della persona Leontina Lanciano ricorda il giorno dell'anniversario dei diritti umani la ricorrenza istituita nel 1950 cade nella data del 10 dicembre per commemorare il momento in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato la dichiarazione nel 1948 quest'anno in particolare ha sottolineato la garante la pandemia ha aggravato ancora di più le situazioni di discriminazione o quelle di rischio di generare ulteriori suguaglianze e parliamo adesso dell'avvertenza tra la società del trasporto pubblico ATM e le organizzazioni sindacali di categoria di CGL Cisle, UIL e UGL entrano nella fase più delicata quella che li porta dinanzi il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico per un tentativo di conciliazione vediamo la questione non è nuova e riguarda gli evidenti contrasti per fini contrattuali tra le organizzazioni sindacali della categoria dei trasporti di CGL Cisle, UIL e UGL e la direzione aziendale della società ATM contrasti che si ripetono ciclicamente con i lavoratori che rimproverano ai responsabili di ATM di pagare gli stipendi con molto ritardo oltre ad altre questioni di carattere organizzativo ed appunto contrattuale quest'ultima vicenda ha portato i sindacati a proclamare lo stato di agitazione e l'apertura dei percorsi di legge per evitare il ricorso allo sciopero tra questi vi è la richiesta all'azienda di organizzare un incontro attivando la prima fase delle procedure cosiddette di raffreddamento e conciliazione la ATM non ha risposto e non ha convocato le parti sociali per espletare il passaggio del rito legislativo così le organizzazioni sindacali hanno dovuto provvedere al successivo passaggio che è quello di rivolgersi al prefetto in questo caso quello di Campobasso la dottoressa Maria Guia Federico a che potesse convocare le parti con la presenza anche delle figure istituzionali quali l'assessore ai trasporti della regione molise per espletare la procedura conciliativa tra la società ATM e le organizzazioni sindacali protagoniste dell'apertura della vertenza l'incontro è stato fissato dagli uffici della prefettura per martedì 15 dicembre alle ore 10 incontro da tenersi in videoconferenza nel rispetto delle misure emanate per fronteggiare l'emergenza da contagio da virus covid-19 Parliamo adesso di un altro presidio pubblico di medici e infermieri della sanità molisana previsto per domani mattina dalle sigle sindacali ad Agnone I a Venafro dopo dinanzi le sedi degli ospedali Caracciolo e Santissimo Rosario i presidi sono conseguenti alla proclamazione dello stato di agitazione degli operatori sanitari e presto in arrivo fondi per il primo finanziamento del contratto di sviluppo istituzionale oltre un milione di euro per il rifacimento dell'auditorium Unità d'Italia di Sernia da Pollonio commenta positivamente andiamo a vedere La presidenza del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente comunicato al comune di Sernia il nulla osta per un'anticipazione delle risorse economiche stanziate per il completamento dell'auditorium Unità d'Italia di Sernia che è uno degli interventi facenti parte del CIS Molise il contratto istituzionale di sviluppo Il CIS ha dichiarato il sindaco Giacomo da Pollonio prevede un importo di 10,5 milioni di euro per il completamento dell'auditorium L'anticipazione ottenuta è del 10% e pertanto riguarda un finanziamento pari ad 1 milione e 50 mila euro una somma importante che consentirà di attivare le procedure per il bando che vedrà in Vitalia in veste di centrale e di committenza e il comune di Sernia quale stazione appaltante Le risorse economiche del CIS contribuiranno in maniera tangibile all'attuazione di interventi strategici finalizzati allo sviluppo di Sernia del suo territorio Il completamento dell'auditorium è il progetto più rilevante ma non è il solo c'è infatti anche quello riguardante l'incremento turistico lungo i trattori per un ulteriore importo di 2,6 milioni di euro e c'è inoltre un accordo con l'Unimo all'Università degli Studi del Molise per ospitare corsi di alta formazione universitaria E passiamo adesso alla cronaca I carabinieri ad Isernia durante l'attività di controllo hanno sanzionato 26 persone per aver violato le limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19 in particolare si è intervenuti all'interno di una casa privata del centro storico dove era in corso una festa con 20 giovani di cui soltanto due maggiorenni intenti a bere senza mascherine di protezione a seguito delle formalità di rito gli identificati sono stati poi sanzionati nel corso di ulteriori controlli sono state altresi individuate altre 6 persone uscite di casa senza giustificato motivo dopo le 22 di sera sorprese a girovagare a bordo di autovetture senza meta I contagi lentamente cominciano a scendere ma il virus nel periodo invernale non verrà debellato completamente serve per questo un giusto compromesso tra le sorti dell'economia mondiale e la salute dei cittadini ma andiamo a vedere questo contributo il giusto equilibrio tra un'economia che sta collassando e la salute della popolazione infatti noi sindaci siamo combattuti proprio su questi due fronti noi ci sono stati nel periodo di marzo-aprile c'è stato il lockdown legato a decisione di PCM nazionali che naturalmente hanno comportato anche la possibilità di ristoro per tante categorie che appunto hanno subito la chiusura adesso purtroppo non ci sono queste situazioni non c'è questa possibilità per cui lo Stato ha demandato alle regioni ai comuni tante decisioni io ripeto voglio cercare già ho attuato delle restrizioni con alcune cose tipo ripeto mercato cimitero anche tutte le scuole chiuse ulteriori restrizioni significherebbe lasciare per quanto riguarda il Molise la zona gialla siamo in una situazione di galleggiamento a rischio io credo che dobbiamo in questi ultimi prossimi 15 giorni dobbiamo essere molto attenti e responsabili anche perché ci leggo e ho notizie dal governo centrale nazionale che si vorrebbe ipotizzare un allargamento delle maglie per quanto riguarda il periodo a ridosso del Natale naturalmente io sono anche medico e anche come categoria appunto siamo molto perplessi noi medici su questo aspetto chiaramente speriamo che ci sia molta responsabilità da parte di tutti proprio da medico a vostro avviso come è cambiato il virus del covid dall'estate al periodo autunnale invernale in base quindi alla temperatura chiaramente la virulenza è maggiore si era pensato in modo errato che potesse essere molto soft ormai il contagio da coronavirus e questo invece non lo sta dimostrando tra l'altro anche il falso la falsa idea che poteva soltanto colpire semmai gli anziani e quant'altro invece si è visto che i colpiti possono essere di tutte le età e questo fa pensare che bisogna essere ripeto sempre attenti e responsabili naturalmente voglio anche far notare che qualora ci sia un contagio quel contagio può comportare nell'ambito familiare una problematica tutti quanti noi abbiamo figli tutti quanti noi abbiamo nipoti tutti quanti noi abbiamo i nonni a casa quindi un contagio potrebbe comportare grandi situazioni il presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti in merito alle misure per contenere il contagio da covid-19 adottate dal governo Conte invia un'istanza alla capitale per una richiesta di modifica del decreto legge del 3 dicembre scorso la proposta è quella di concedere la possibilità degli spostamenti tra i comuni all'interno della stessa provincia nelle giornate delle festività natalizie siamo consapevoli di vivere una situazione di pandemia dice Roberti ma riteniamo che consentire gli spostamenti tra i comuni della stessa provincia sia anche un modo per donare serenità a chi in questo momento si trova isolato e cambiamo argomento nel corso del nostro focus settimanale in onda questa sera alle 21 con repliche venerdì e sabato si affronta il tema della scuola le scelte in questo periodo drammatico del contagio da virus e le prospettive future dei percorsi formativi andiamo a vedere un estratto l'argomento del focus settimanale che va in onda questa sera alle 21 e attraverso alcune repliche domani alle 15 e 30 e sabato alle 21 riguarda la scuola commentando con gli ospiti le varie scelte istituzionali nel periodo dell'emergenza da covid ma anche i percorsi futuri in fatto di investimenti e dei cambiamenti che necessariamente si devono attivare ne parliamo con il rettore del convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso Rossella Gianfagna con l'insegnante e presidente della fondazione Molise Cultura Antonella Presulti con la docente di filosofia Adele Fraracci e il sindacalista della federazione lavoratori della conoscenza Giuseppe Lafratta abbiamo mandato un documento come convitto al presidente al bianchi che è il coordinatore del comitato e abbiamo addirittura mandato tutti i dati della DAD quindi c'è un'audizione al Senato con i documenti del convitto nazionale Mario Pagano inviati ieri tutti i docenti ci hanno lavorato e quindi abbiamo praticamente mandato un documento in audizione al Senato questa è una cosa e poi magari vedremo anche di farli pubblicare poi ho scritto anche un documento e una lettera importante anche in questo caso al presidente della Repubblica e quindi stiamo verificando e aspettando perché noi ci crediamo in alcune situazioni e quello che io posso dire è che più che fase 1 fase 2 io parlo di quattro fasi deliranti nella scuola perché siamo al delirio perché veramente allora un giorno la DAD si dice che funziona mi perdoni la cosa e quindi noi facciamo scuola poi mi dicono di prolungare l'anno scolastico perché non hanno fatto scuola e quindi mi trovo un po' così un giorno le scuole funzionano l'altro il giorno dopo senza nessun motivo vengono chiuse senza che ci sia altra considerazione cioè noi non abbiamo mai ogni giorno per noi non sappiamo se è l'ultimo Riaprire gli uffici postali del Molise chiusi a giorni alterni a seguito degli effetti della pandemia ecco la richiesta avanzata dai sindacati della UGL ma andiamo a vedere Riaprire a giorni alterni quei molti uffici postali in varie zone del Molise chiusi a causa del diffondersi della pandemia questa la richiesta avanzata dal sindacato UGL e delle comunicazioni della regione a seguito delle sollecitazioni portate ai tavoli negoziali dopo le richieste esposte dai sindaci dei comuni coinvolti in quest'operazione si cerca di azzerare tale problematica ormai sono passati quasi dieci mesi dal giorno in cui per motivi di sicurezza verso i cittadini il governo italiano decretò per evitare assembramenti che potevano verificarsi all'interno e all'esterno degli uffici postali la chiusura degli stessi lasciandoli aperti a giorni alterni e alcuni chiusi completamente la OGL pertanto è intervenuta per cercare di risolvere queste problematiche con l'azienda poste tale decisione dice il sindacato ha avuto ricadute su quelle sedi che invece restano tuttora aperte dove si creano per forza di cose lunghe file e troppo spesso assembramenti che potrebbero essere evitati l'università degli studi del Molise conferisce a Giampaolo Montali già allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Volley e attuale direttore del progetto Rider Cup 2023 la laurea ad honoris causa scienze tecniche attività motorie preventive adattate il 16 dicembre alle 11 ci sarà la cerimonia in diretta dall'aulamagna dell'Ateneo Molisano e prosegue anche in Molise la raccolta dei fondi da destinare alla ricerca scientifica medica di Teleton per l'evento conclusivo di domenica 13 dicembre la città di Sernia si trova in prima linea andiamo a vedere io penso e con grazie va detto a tante donne che hanno partecipato all'iniziativa di quest'anno io come sorella di Antonio e anche come presidente di Chimos sento di dovere molto alle tantissime persone che ruotano intorno a questa manifestazione a cominciare da Maria Libera Caroselli che è diciamo la promotrice del gruppo delle mamme perché dobbiamo dire che Antonio Fosma è l'assegno finale che viene donato a Teleton è il risultato di una serie di eventi di manifestazioni che ruotano intorno a questa manifestazione conclusiva che vengono organizzate in tutta la provincia mi piace ricordare in primis il gruppo delle mamme di Maria Libera Caroselli che quest'anno ha organizzato questo bellissimo albero che è un'opera d'arte secondo me quindi ringrazio tutte le pizzigliare che hanno realizzato questi meravigliosi pizzi sia al tombolo che all'uncinetto ci sono dei pezzi veramente meravigliosi e poi bisogna mi piace citare anche l'associazione Caffracottesi che l'anno scorso ha donato e quest'anno anche so che stanno organizzando delle cose per donare anche quest'anno ringrazio gli sponsor che ogni anno ci sono vicini e poi devo ringraziare tutti i cittadini della nostra città che ogni anno intervengono veramente numerosissimi all'auditorio ma a volte dobbiamo centellinare i biglietti perché non possiamo accontentare tutti quest'anno purtroppo l'evento per ovvie ragioni non può andare in scena però ugualmente ci siamo detti di voler organizzare comunque la raccolta benefica vi ricordo e approfitto vi ricordo che si può donare anche sulla piattaforma www.ifcrowd.com c'è un evento su questa piattaforma che si chiama proprio Antonio Fosma e donare è semplicissimo basta andare lì e donare quello che si vuole anche un euro è un segnale è un bellissimo gesto per arricchire il nostro Natale Comprimento a voi avete creato un esercito di volontari di persone per bene di persone che hanno un cuore grande Sì è la mia soddisfazione più grande quella di vedere tantissime ma veramente tante persone che si stringono intorno a noi perché hanno capito l'importanza di questa causa si stringono intorno a noi e insieme a noi portano avanti questa bellissima manifestazione e ci spostiamo adesso a San Salvo dove si trova l'albero di Natale allestito all'ingresso della sede municipale che è stato addobbato interamente con le decorazioni realizzate dal centro socioeducativo il mosaico in questo anno che passerà la storia per via della pandemia non è sfuggita però l'occasione degli ospiti del centro di raffigurare tra gli addobbi natalizi la molecola del covid il sindaco Tiziana Magnacca ha evidenziato come a causa del coronavirus i disabili abbiano dovuto sopportare maggiori disagi per il forzato isolamento ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo cielo prevalentemente sereno oggi su gran parte del Molise stellato dalla sera le temperature della giornata odierna sono comprese tra la minima di 5 gradi a Campobasso e la massima di 16 gradi a Termoli nella giornata di domani nubi sparse con possibili fenomeni temporaleschi nel corso della giornata mosso il mare Adriatico venti deboli variabili apriamo adesso la nostra pagina sportiva parlando del calcio la Lega Nazionale Direttanti ha diramato il nuovo calendario delle partite nel calcio di serie D torneo compreso con l'aggiunta di 4 recuperi infrasettimanali a partire dal mese di gennaio si chiuderà nel mese di giugno ma andiamo a vedere il servizio domenica 13 riprenderà il campionato di calcio di quarta serie con la settima giornata nel girone F quello che interessa le formazioni molisane avruzzesi marchigiane laziali e la campana matese dopo un'interruzione di oltre un mese ad esclusione dei recuperi la classifica vede l'accoppiata San Nicolò Notaresco e Recanatesi a quota 14 scavalcato in testa raggruppamento il campo basso un punto in meno ma il rosso-blu hanno una partita ancora da recuperare in quel di Genzano contro il Cinzi al Balonga domenica pomeriggio alle 14.30 i lupi di Mirco Cudini dovranno affrontare proprio i terramani del San Nicolò nel catino di contrada Selvapiana mentre l'altra capolista Recanatese sarà di scena al Civitelle di Agnone opposta al rinnovato 11 di mister Stefano Senigagliesi con i Granata scatenati nel mercato di dicembre fiduciosi nell'ottenere la salvezza diretta dopo un inizio shock infine il vasto Girardi a metà classifica andrà a far visita alle velleità del Monte Giorgio nel frattempo il Dipartimento Interregionale ha rimodulato date giornate della Serie D il giro di Boa ci sarà il 21 febbraio mentre il 6 giugno in clima quasi estivo la conclusione dei tornei i quattro turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutti i gironi si svolgeranno il 6 gennaio il 3 24 febbraio e l'ultimo il 14 aprile infine il campionato di quarta serie osserverà un turno di riposo il 14 marzo per la partecipazione della rappresentativa di Serie D alla Via Reggio Cup La Serie B di Calcio 5 e l'Under 19 nazionale in campo invece dal 10 di gennaio la decisione presa dalla federazione però non convince la Chaminade Campobasso poiché non dà certezze e tranquillità alla società sportiva dal punto di vista del protocollo sanitario la soluzione migliore di condare a riprendere solo quando le condizioni del contenimento del contagio del paese lo consentiranno congelare il campionato almeno fino a tutto al mese di gennaio la proposta della Chaminade e con quest'ultima notizia è tutto si conclude qui per oggi il telegiornale di TLT o come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci a l'unico a l'unico paese a